Siamo soddisfatti del fatto che EasyJet continui i propri investimenti su Catania e in particolar modo dando maggiori e migliori possibilità di collegamento con Malpensa a tutti quelli che viaggiano per business e quindi potranno fruire di un servizio migliore probabilmente abbassando il livello delle tariffe vista la maggiore concorrenza e dando anche l'opportunità a tutti quei turisti che vogliono venire in Sicilia, a Catania in particolare e viceversa di potersi spostare in tutte quelle rotte che sono servite per l'appunto dall'aeroporto di Malpensa.